Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù parlò dicendo Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e quando lo è divenuto lo rendete degno della Genna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora, se uno giura per l'altare non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vista sopra resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare giura per l'altare per quanto vista sopra e chi giura per il Tempio giura per il Tempio e per colui che lo abita e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. È sicuramente una parola strana quella che oggi troviamo nella liturgia e che è tratta dal ventitresimo capitolo del Vangelo di Matteo. Solamente un paio di cose, senza scendere nei particolari, che sono alquanto complicati, l'offerta, il Tempio, cosa rende sacro questo, quell'altro. Prima di tutto è questo ritornello che Gesù dice più volte guai a voi, guai a voi, guai a voi. Sembrano proprio delle frecce che vengono lanciate, è un ammonimento forte, severo, che non ci lascia così indifferenti. Facciamo fatica a intravedere il volto misericordioso di Gesù attraverso queste parole. Eppure queste parole sono forti perché vogliono scuotere un cuore indurito, quello degli scrivi e dei farisei, un cuore indurito nel loro micromondo, in quello che credono vero, ciò che hanno maturato. È un mondo fatto di leggi, prescrizioni, di vieti, un enorme incasellamento della vita. Guai a voi perché siete lì chiusi dentro e non vi aprite alla pienezza della vita. Forse ci fa bene pensare che il Signore oggi questa parola la dice anche a noi, perché anche noi oggi, anche noi spesso siamo chiusi dentro le nostre piccole convinzioni, i nostri caposaldi che sono indiscutibili e a volte facciamo delle guerre inutili con familiari, con colleghi, con amici. Perché? Perché quella roba lì è così. Non si discute. Guai a voi. Il Signore ci invita a non essere chiusi nelle nostre convinzioni, ma a diventare convinti solamente di quello che Lui ci offre, di quello che Lui ci dà, di quello che Lui mette sul nostro cammino. Il punto di riferimento non è, non sono i confini che io mi do, ma sono i confini che il Signore pone davanti a me. Lo dice un Salmo, Lui pone pace nei tuoi confini. Ecco, non sono le mie regole, non sono le mie convinzioni che mi salveranno, ma è la parola di Gesù che mi mette nella libertà di vivere e di proiettarmi in un mondo completamente diverso, che non è il mio, ma è il suo, è il regno. Il regno di Dio nel quale siamo immersi, siamo dentro. Allora una parola che ci invita ad uscire dal nostro io per incontrare ciò che ogni giorno il Signore mette attorno a noi come pienezza di vita.